Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TV City, in apertura all'emergenza sanitaria questa mattina nei nostri studi, confronto fra i sindaci di Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare, focus su contagi e scuola. Siamo stati con le nostre telecamere presso l'istituto Pantaleo, il dirigente Giuseppe Mingione ha spiegato l'importanza di un ritorno a scuola, facendo appello alla collaborazione di tutti. Spazio poi alla cronaca Blitz della Guardia di Finanza che ha sequestrato alla Camorra beni per oltre 10 milioni di euro. Sulla questione NU invece abbiamo ascoltato Luigi Mele, voglio dare un contributo alla città, ha affermato il consigliere. Sempre a Torre del Greco, ieri c'è stato il primo incontro tra la consulta cittadina e il nuovo assessorato alla nettezza urbana, presentato un piano di cooperazione. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Sindaci a confronto alle telecamere di TV City, focus sulle problematiche della scuola e non solo, dai contagi ai decessi, agli ultimi provvedimenti adottati. Un'ampia analisi sui dati dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Al dibattito sono intervenuti i sindaci di Torre del Greco, Torre Annunziata e Castellammare. Tutti i dati in possesso dei sindaci provengono dalla regione. Questo è il dato che ci è arrivato ieri, unità di crisi 9 febbraio 2021. Quindi sono tutti i dati che provengono dalla regione e quindi la regione conosce bene le situazioni in tutti i comuni della provincia di Napoli e nelle 5 province. Ci hanno dato anche i casi negli ultimi 7 giorni e Torre del Greco c'è un incremento di 301 caso, ma hanno dato anche i casi per età. Dai 6 ai 10 anni, dagli 11 ai 13 anni, in tutto sono 29 casi. Questi 29 casi non è detto che praticamente riguardano solo una classe o un'unica scuola, ma possono riguardare un po' anche quella che è la realtà all'interno delle famiglie. Il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palumba, ha chiarito gli sviluppi emersi dall'ultimo incontro con l'ASL. Dalla riapertura fino al 9 febbraio i positivi sono 301. Questo numero comprende alunni di varie fasce di età, personale docente e non docente. Secondo i parametri inviati dalla regione Campania bisogna tener conto di tre elementi specifici. L'incidenza di positivi ogni 100.000 abitanti, la percentuale di tamponi positivi e la densità abitativa. Dal confronto con le medie regionali, in caso di dati crescenti, si generano particolari criteri chiamati ALERT. E' automatico e lì poi bisogna agire. E si chiamano ALERT. ALERT vuol dire che praticamente bisogna prendere delle decisioni. Di questo io ti ho fatto anche vedere gentilmente, Antonella, nel momento in cui si parla di chiusura di scuole, bisogna capire che bisogna guardare in un modo generale, quindi anche attività produttive. Attenzione, noi vogliamo parlare delle scuole come se il Covid è solo all'interno delle scuole. Non è così. La situazione è completamente diversa. Cioè per chiudere, quando si chiudono le scuole bisogna anche poi capire che si deve chiudere attività commerciale oppure ridurre gli orari delle attività commerciali. Scuole chiuse, Attore Annunziata e Castellammare. Ho preso dei provvedimenti restrittivi simili alla zona arancione. Voglio oggi dare invece una buona notizia perché per la prima volta negli ultimi giorni abbiamo un numero di guariti superiore ai nuovi positivi. Per cui il totale massimo che abbiamo raggiunto ieri con 906 positivi oggi è sceso di nuovo sotto i 900. Quindi questa è già la prima buona notizia. In questo momento il Comune di Torre Annunziata ha un'incidenza negli ultimi sette giorni però, dal primo al 7 febbraio, su 100.000 residenti noi arriviamo ad un numero di 859,97 a fronte della media della regione Campania che è 159,68 e abbiamo una percentuale dei nuovi positivi che arriva al 21,41% a fronte di una percentuale della regione Campania che è del 9,72%. Questi parametri, chiaramente come indicatori, vanno nella direzione appunto di mettere in campo quelle ordinanze restrittive di cui parlavo prima. Le scuole sono chiuse perché ho emesso ordinanza sindacale proprio per tutelare la salute dei più piccoli e degli anziani. Perché lo possiamo dire tranquillamente? In questa fase c'è stata troppo in responsabilità da parte degli adulti, di alcuni genitori che hanno accompagnato a scuola i ragazzi in attesa di tampone. È chiaro che noi come sindaci siamo in prima linea e quale massima autorità sanitaria presente sul territorio ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità. Molte volte mettendo in campo scelte forti ma comunque che vanno nell'interesse della collettività e della comunità. I sindaci hanno poi spiegato come si stanno organizzando nei loro rispettivi territori per l'avvio della campagna vaccinale. Siamo quasi pronti l'ASLA a partire con le vaccinazioni. Tutti i sindaci hanno dato disponibilità di aree per far sì che l'ASLA dà i infermieri, i medici per iniziare queste vaccinazioni. Anche qui c'è un protocollo che inizia dalla fascia degli ottantenni per poi iniziare a scendere a quelli che sono i professori, quindi i dirigenti scolastici, professori delle scuole e tutto. Noi abbiamo dato come area nostra l'annunziata, quindi con l'area della Santissima Trinità, con il parcheggio. Ieri ci hanno chiamato, oggi c'era il sopralluogo, siamo a disposizione anche per qualche altro comune più piccolo che può venire a Torre per quanto riguarda le vaccinazioni, ma tutti i comuni si sono messi a disposizione. Ho dato già disponibilità di alcuni immobili comunali dove verranno effettuate queste vaccinazioni. La campagna di vaccini è fondamentale per i cittadini e per far diminuire drasticamente quella che è la curva dei contagi. Anche noi abbiamo già individuato delle strutture pubbliche da mettere a disposizione dell'ASL perché ci rendiamo conto che più siti vaccinali mettiamo a disposizione e prima arriveremo a mettere in sicurezza tutta la nostra cittadinanza. Siamo qui con il dottor Mingione, dirigente scolastico dell'Istituto Eugenio Pantaleo. Preside, sono ormai due settimane che si è tornati in classe con la didattica in presenza, seppur parziale. Qual è il bilancio? Il bilancio è di tante difficoltà, come avevamo previsto, ma vorrei chiarire che si saprano tante discussioni tra i docenti, tra i genitori e anche con gli alunni. credo che chi può mai affermare che il diritto alla salute o il diritto allo studio siano due diritti non importanti, sono due diritti fondamentali. Il problema è che ci siamo trovati in una situazione dove questi due diritti vengono addirittura messi in contrapposizione. È evidente che la didattica in presenza ha un altro valore rispetto a quella a distanza e ancora di più rispetto a quella mista, dove i docenti devono riuscire a gestire la classe in presenza e anche quella a distanza, quindi veramente molto complicato. Gli alunni stanno veramente dimostrandosi incomiabili e con grande senso di responsabilità, però le difficoltà ci sono, anche perché poi di giorno in giorno ovviamente i casi di contagio stanno aumentando e quindi ovviamente arrivano indirettamente anche alla scuola e sicuramente sono contagi esterni. Qual è la situazione Covid nel suo istituto? La situazione Covid nell'istituto è abbastanza contenuta, per il momento siamo a un solo caso e lo abbiamo gestito esattamente come prevedeva il protocollo. Dal punto di vista della messa in sicurezza, come si è organizzato l'istituto per prevenire appunto il contagio da Covid? Con quello che è l'applicazione, come dire, rigorosa di quelle che sono le misure di prevenzione, quindi il distanziamento sia all'interno della classe con un lavoro fatto, ma questo fatto già dall'anno scorso di preparazione, di misurazione del distanziamento classe per classe, con il conteggio e la calibratura delle persone, degli alunni in presenza e poi man mano ci siamo adeguati a tutte quelle che erano le direttive che arrivavano. In questi giorni si parla molto spesso di didattica a distanza su richiesta per lo studente cosiddetto fragile. Qual è la procedura all'interno del suo istituto per effettuare questa richiesta se possibile? La procedura è quella prevista. Purtroppo ci sono tanti genitori e anche alunni sollecitati dai figli che hanno pensato, come è successo in tante scuole, io so che magari quello poteva diventare un'opzione, cioè scegliere tra la didattica a distanza e la didattica in presenza. Noi stiamo facendo la didattica in presenza sempre nei parametri previsti dal DPCM tra il 50 e il 75, salvo che ci siano o situazioni di fragilità dovute all'alunno o ad un convivente. Questa è la normativa e questa stiamo cercando di applicare. Beni per oltre 10 milioni di euro sono stati sequestrati tra Campania e Bruzzo a Gaetano Britti, 75 anni, ritenuto affiliato di spicco del clan di Lauro. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea ed eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale ha riguardato beni immobili situati tra Napoli, Milito di Napoli e Castel di Sangro. Gli specialisti del GICO hanno sequestrato fabbricati e terreni dopo aver ricostruito come le risorse accumulate nel tempo dalla famiglia erano state favorite dal rapporto di parentela fra Britti e cognato Rosario Variante, protagonista dei cosiddetti scissionisti, nel periodo di erosione della struttura organizzativa del clan di Lauro. Prima della faida tra i di Lauro e gli scissionisti, Britti, grazie al rapporto di rispetto con il cognato, aveva goduto di un canale privilegiato attraverso il quale gli venivano affidate ingenti somme di denaro di provenienza illecita, derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti e dalle estorsioni che attraverso una propria struttura organizzativa reinvestiva in operazioni di usura, riciclaggio e reimpiego nell'economia legale. Secondo gli investigatori, le capacità manageriali di Britti nella gestione del vasto giro di usura sono state presto riconosciute anche da altri soldali apicali del clan che gli avevano affidato le proprie risorse illecite per farle fruttare. Le indagini di natura patrimoniale hanno sfruttato le evidenze investigative acquisite in precedenza dalle stesse fiamme gialle, l'appartenenza dei Britti al sodalizio criminale, le dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia e l'inconsistenza economica dei componenti del suo nucleo familiare, del tutto sprovvisto di fonti recite di guadagno in grado di giustificare il valore economico del patrimonio. Consigliere Luigi Mele, in questi giorni abbiamo ascoltato le parole dell'ex sindaco Ciro Borriello che ha fermato Luigi Mele da oppositore spietato a sostenitore di Palomba. Lei cosa pensa di queste parole? Allora io dico che chi vuole bene alla città non può parlare in questo modo. Lui sa benissimo i consiglieri della federazione che i problemi hanno portato anche a lui quando era sindaco di questa città. Io non sono sostenitore di Palomba, io sono sostenitore della città come ho già detto più volte in altre interviste. In questo momento penso che era la cosa più sbagliata quella di abbandonare la città senza dare il giusto contributo. Sicuramente se c'era la volontà vera da parte di quelli della federazione di volerbbero andare a casa Giovanni Palomba l'avrebbero fatto con un documento scritto, cosa che invece non è mai avvenuta. Nel momento in cui il sindaco ha dato impegno e ha messo fuori persone che potevano in questo momento ricattare il sindaco stesso e non dargli la possibilità di poter lavorare nel migliore dei modi ho creduto importante dare un contributo e far sì che mettendoci la faccia, prendendo comunque la delega forse un po' più difficoltosa, più rognosa, ho dato la mano alla città e non al sindaco Palomba. Dopo la nascita della nuova giunta Palomba a Torre del Greco, molte sono state le polemiche soprattutto per quanto riguarda l'assessorato con delega alla nettezza urbana, una situazione spinosa, quella dei rifiuti, che già da anni provoca il malcontento dei cittadini. Noi abbiamo iniziato circa dieci giorni fa, abbiamo già incontrato la ditta, stiamo dando delle linee di indirizzo. Chiaramente in città un piccolo segnale si vede, la gente ci chiede tanto perché sicuramente il piano industriale non è uno di quelli fatti a regola d'arte e cercheremo dove è possibile di poter sostituire o portare il giusto contributo per cambiarlo in qualche modo. È vero che le difficoltà sono tante, qualcosa si sta già vedendo, inizieremo dalla prossima settimana già, adesso faremo un incontro anche con il comandante dei vigili urbani ad iniziare da una strada sperimentale ad eliminare i bidoni dai marciapiedi. Chiaramente le cose da fare sono tante, c'è bisogno della mano di tutti, però un appello importante lo voglio fare alla città. Non è possibile, ho visto poco fa delle immagini di un frigorifero buttato a via Diego Colamarino, centro storico della città. Mi sembra assurdo che nessuno abbia visto nulla e mi fa sorridere perché dico se qualcuno sta cercando in qualche modo di voler portare e di creare problemi al gruppo che in questo momento si è caricato, di cui grosse responsabilità, volendo dare un contributo importante e far sì che la questione NU possa in qualche modo essere risolta a Torre del Greco, credo che abbia sbagliato proprio strada perché nel momento in cui troveremo e riusciremo a segnalare persone che fanno questo tipo di cose, credo che se la vedranno veramente brutta. Quindi lo dico a chiare lettere in maniera molto chiara, state attenti quando andate in giro a buttare i rifiuti non autorizzati perché poi passerete un brutto quarto d'ora e non ci saranno poi santi da poter interpellare. Quindi una grossa responsabilità per il suo assessorato ma prima di tutto ci vuole il buon senso dei cittadini. Sicuramente tutto parte da quello. Qualcuno mi sta attaccando dicendo che allora la ditta è buona e i cittadini non sono buoni. Io non sto dicendo assolutamente questo. La ditta ha sicuramente i suoi problemi, i cittadini creano qualche problema. Con il senso civico riusciremo a risolvere tutto. Se non c'è senso civico ovviamente diventa tutto più complicato ma noi non ci abbattiamo. Andiamo avanti convinti per la nostra strada e cercheremo di dare il giusto contributo per risolvere quanto prima questa questione che veramente è un peccato. In una città come la nostra trovare rifiuti per strada credo che non faccia bene a nessuno. Quindi di conseguenza se siamo convinti di voler dare una svolta la dobbiamo dare tutti quanti insieme. Io questo voglio che la gente ci dia il contributo giusto. Quindi faccio di nuovo l'appello a chi vede in qualsiasi ora del giorno o della notte persone scaricare rifiuti per strada ci deve assolutamente avvertire, deve segnalare se può fare delle foto, recuperare i numeri di targa perché queste persone la devono pagare e non può andare liscia per chi fa questo tipo di abusi. Primo incontro ieri a Palazzo Baronale tra la consulta cittadina e la nuova squadra politica con delega alla nettezza urbana, composta dal consigliere Luigi Mele, il nuovo assessore all'NU in Mamarra e la dirigente Claudia Sacco. Discusse le tematiche inerenti alla situazione di emergenza rifiuti che la città sta affrontando. La consulta ha proposto un documento con delle soluzioni valide per combattere questi episodi che da anni colpiscono Torre del Greco. Abbiamo ascoltato la presidente della consulta cittadina Clementina Sasso. La consulta è venuta insomma a conoscere il nuovo assessore, la nuova assessore ai rifiuti e a proporre insomma a farsi conoscere prima di tutto e a proporre un piano di sensibilizzazione che deve essere sviluppato ovviamente in collaborazione con l'amministrazione e quello che noi proponiamo anche con tutte le associazioni del territorio non solo con la consulta. Quali sono i punti fondamentali di questo documento? La collaborazione, quindi creare una rete, sfruttare tra virgolette ovviamente in senso buono i comitati di quartiere, le scuole, le comunità parrocchiali perché si creino appunto dei bacini dove educare la popolazione alle buone pratiche insomma per la raccolta differenziata, per il rispetto dell'ambiente e tutto quello che appunto ne ne consegue perché appunto l'ambiente vita, un ambiente salubre consente una vita vissuta insomma per bene. Si è parlato molto anche del problema rifiuti che è uno dei problemi principali, quali potrebbero essere delle possibili soluzioni? Noi come consulta insomma abbiamo sempre, abbiamo già portato dei documenti all'attenzione dell'amministrazione e di base erano tutti improntati al rispetto del capitolato d'appalto da parte della ditta. Già quello insieme appunto a quest'opera di sensibilizzazione della popolazione perché se non collaboriamo tutti insieme sia dall'alto che dal basso non arriviamo a nulla e quindi appunto già il rispetto del capitolato d'appalto da parte di tutti e rispetto alla differenziata da parte dei cittadini quello già sarebbe un grosso passo e dobbiamo partire da quello, da quello che già c'è su carta e non viene attuato. Sicuramente c'è anche il buonsenso dei cittadini che deve essere primario. L'assessore diceva che anche loro non vogliono entrare subito a gamba tesa con le multe e come non possiamo essere d'accordo proprio visto il piano di sensibilizzazione che abbiamo portato perché bisogna capire se c'è appunto il dolo da parte del cittadino o è perché è una mancanza da parte dell'amministrazione nella sensibilizzazione e nella corretta informazione sullo smaltimento del rifiuto. Grazie per la cortese attenzione per info e segnalazioni contattateci alla mail redazione chiocciola tvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. Grazie e buon weekend. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.